Sto vedendo cosa è successo qui in queste immagini. È scarico di là, lavandina, dove faccio mangiare, dove lavo i piatti e trovo anche la mattina bagnato sempre. Ogni mattina che si alzava lo trovavo vuoto, sporco, lavandino, proprio perché era tutta bagnata. Quest'acqua da dove viene? Dalle fosse, dalle fosse che ce l'ho qua. È scarica di tutti il condominio. È la situazione denunciata da Flora, residente in uno degli alloggi popolari in via d'Aragona a Bottegone. La sua casa, dove abita ormai da molti anni, è al piano terra e la situazione è sempre stata questa. Questo alloggio è stato sempre muffa, umido. Quando piove le acque e reflui salgono ed escono dal lavandino e persino dal pavimento. Due metri e mezzo. La sua richiesta è di aver assegnato un altro appartamento dopo vari anni di attesa, però adesso Flora si è rivolta a due legali, i quali spiegano il trasferimento permetterebbe anche a Spess di eseguire i necessari lavori per rendere l'appartamento davvero utilizzabile. Adesso sono che ho fatto foto, che l'ho mandato quando ho fatto la richiesta e dicevano che non sono motivi gravi, non sono urgente per cambiare l'alloggio. Queste acque che cosa succede? Ogni circa 7-10 giorni vanno a uscire dai lavandini, vanno a uscire dai sanitari, inondando tutto il pavimento. Anche con un sacco di spese, perché è vero che loro vengono poi a levare le acque dal pozzetto, però poi tutto il danno che comunque si è creato sulle mura e sui mobili, questo è tutto a carico della povera signora. Avevi la camera dal letto piena di acqua delle fogne? Sì, pieno, sopra il pavimento, tutto bagnato, tutto bagnato con questa acqua, perché quando piove tanto le fosse sono piccoline e non escono a starci nelle fosse, escono sopra la terra, come è uscita nella cucina. Ho fatto tantissime volte le richieste per cambiare l'alloggio, non sono mai stata ben accettata. Per questo motivo, dopo sette volte che ho fatto la richiesta, ho detto basta, non ce la faccio più. Solo fuori che hanno messo il capotto, dentro hanno messo solo le finestre e la porta fuori, nient'altro.